Musica Musica Movieland il parco italiano dedicato al cinema L'avventura comincia da qui Siamo in compagnia di Fabio Amicabile Lui è il CEO di Movieland e non solo Vero Fabio? Sì sì assolutamente Beh qui siamo esattamente a Movieland Ha detto bene infatti Un parco che diciamo nasce quasi 20 anni fa Infatti l'anno prossimo abbiamo un grandissimo evento Che sono proprio i 20 anni di questo parco Che dovete sapere appartiene a una famiglia La famiglia Amicabile Dove mio padre nel lontano 65 Iniziò la sua attività qui sul lago di Garda Sviluppando il primo parco aquatico che è Caneva E dà il nome a Caneva World Resort E allora ti faccio subito una curiosità Ti chiedo subito una curiosità Cosa c'era qui? Abbiamo visitato spesso gli Stati Uniti Proprio perché là sono come dire La muse ispiratrice di questo settore Del divertimento E gli Universal Studios E Disney Studios o MGM Studios Mi hanno sempre ispirato Nel portare in Italia un esempio di parco Ispirato al mondo dei film L'abbiamo fatto Abbiamo iniziato 19 anni fa Come oggi Proprio qui Esattamente qui Stavamo scavando Diciamo le prime fondamenta E 19 anni fa E l'anno prossimo avremo i 20 anni Di un parco che diciamo È in continua espansione E quest'anno tra l'altro Ci ha dato una soddisfazione Veramente importante In termini di gradimento Da parte del pubblico e di visitatori Chi viene qua a Moviland Che cosa? Assolutamente Non può mancare di fare Quali sono le attrazioni Che tu consigli? Allora il nostro slogan è Lucicamerazione Che è un po' tipico Di questo mondo Perché chi entra Attraverso il portale di Moviland Entra in uno studio cinematografico E quindi viene chiamato Ad essere una comparsa Che può trovarsi su dei set Dove stiamo girando Delle scene di alcuni film O simuliamo delle scene Queste attrazioni Per esempio abbiamo Magma Un'attrazione che compie 20 anni l'anno prossimo Ed è ispirata Ad un viaggio Su un mezzo militare Attraverso un terremoto Poi si cade in un lago Ci sono fiammate Cioè quindi L'emozione L'adrenalina È la padrona Poi abbiamo Un'attrazione bellissima Per le famiglie Che si fa attraverso Delle jeep In un ambiente Alla Jurassic Park Noi la chiamiamo Pangea E i nostri visitatori Possono salire su delle jeep Senza rotaia E viaggiare in una valle Piena di dinosauri Con una storia E i bambini I dati vanno giù di testa Poi abbiamo un'attrazione Che si chiama Kit Superjet Un motoscafo Che viaggia su un piccolo La ghetta artificiale Per una missione Da tre minuti e mezzo Piena di adrenalina E poi abbiamo Tantissimi spettacoli Punti ristoro Ristoro Quindi il parco Diventa contenitore Di eventi Ecco E allora caro Fabio Quante persone Lavorano qui? Noi solitamente Impieghiamo intorno Al 400 persone Nei due parchi E dovremo L'anno prossimo Salire Guarda Io la cosa che Stando qua con te Cerchi lavoro? No Sto cercando lavoro Assolutamente sì Perché qui è fantastico Ma quello che traspare Da questa intervista È proprio la passione Che ci metti Non è un semplice Lavoro per te Questo si capisce Ma è qualcosa Che proprio ti piace E lo fai veramente Con grande passione Guarda Quando fai questo lavoro Ti devi piacere È lì la differenza Siamo qui sul lago Siamo una famiglia Vi aspettiamo Veramente numerosi Perché abbiamo Tantissimo da offrire E possiamo regalare Una giornata spensierata Con spettacoli Attrazioni All'aria aperta Perché non sceglierci Ecco E allora dopo questa fantastica Spiegazione È anche un onore È un piacere Grazie Perché vedere comunque Una realtà italiana Una famiglia italiana Che l'impegno che ci ha messo Ha realizzato veramente Possiamo dirlo Un piccolo impero Qua sul lago di Garda E non ci resta che Rimanere qua con noi Per visitare Questo fantastico parco Movie Land Luci, camera, azione Luci, camera, azione Ciao 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 E in compagnia di Boeing Luke Da Movie Land Andrea Evans Per TG Evans Ciao Ciao Autore dei sovrapposti